La maggior parte delle aziende oggi scelgono la cultura biologica, sono i posti, i testi, quindi c'è la cultura che è terminata adesso a un percorso che varia a seconda della tipologia di produzione che viene scelto, nell'ambito delle culture almore è un percorso che prevede una conversione posto di due anni prima di iniziare la vera produzione biologica. Considerate che i prodotti per la difesa devono essere utilizzati per poter avere una produzione in cultura biologica. Si è chiamata la certificazione Globacap, una roba che ha parlato di quello che era stata scelta, era stata richiesta da una costa catena che è il trasferito della sicurezza alimentare. In breve, quando parliamo di Globacap, parliamo di uno di poco il livello di sicurezza del prodotto. sia la parte economica che il drop based e infine una terza parte che si chiama i caratteli sociali, dove al centro di tutto è la gestione del lavoratore, quindi l'aspetto rapido lavorativo, quindi sostanzialmente è una parte etica. di questi commenti di dire alcuni punti di dati, ma anche perché la gente è piccola, come abbiamo voluto concettualmente partire da quelle certificazioni che sono in ambito piccolo. Per noi, a nuovo, io vorrei spiegare innanzitutto quello che sono le città. Grazie a tutti.